L'Ondra sarà più sicura E se trovate qualche soldo è vostro Un po' di soldi non guastano Ma dove devo andare? Se ci vediamo lì chi è? Ah attacchi alle barche così così Alle barche furto di carichi C'è per caso un limite? No poi iniziamo da questo qua Ehm Otro lì dietro Perché non salta fino a lì? Ma stanno fermi? Non ho capito Ucciditi. Terminati va bene ora bambina ok ma chi porca miseria non hai mai saputo sembra dobbiamo sardirti che le amicelli avevano beccati gli occhi che è quello? dobbiamo sardirti che le amicelli avevano beccati gli occhi? ne avevo visto uno via via c'è un po' di sfide anche rubo questa cassa ce la rubo e rubo la carrozza beh guarda la devo portare guarda la mia guarda la mia forza si qui mi si si Sì, se ne vediamo quelli con la cavazza di spara al cavallo, li faccio con noi. Sì. E' arrivato quelli con la cavallo. Madonna, Madonna. Uuuuh, Madonna. Che polo che si è fatto. Bravissima. E' molto gelo. Ok. Ah, metto, vai da... Vai, vai da... Vai, vai da... Vai da... Normale, cioè... Non è una cosa di speciale speciale che potrebbe essere. Però è carina come attività. Squatta di carichi. Sì. Scopera come erano? Mi proteggono gli attacchi dei Bliders. Ah dai, non è che corrona neanche tanto stico... Non siete fottuto. Signore, si devi. Ma è saltatoflix... ma teood che follo!! Vienta l'animo per completare gli obiettivi non fermarli ma io sono diventata una cosa ti prende ho fatto il trofeo normale due punti di abilità... due punti di abilità... il nuovo tutorial Please let me get me Magari c'è una seconda Ah sono le missioni che ci sono di quel tizio tizia Cos'è? Barca con tre bandieri Profitto Questa è il simbolo che deve esplodere Esplode Questa cos'è? Attacchi alle barche Attacchi alle barche Esplode Mamma mia Livello suggerito sei Insomma livello sei ma dovrebbe andare bene Beh comunque Andiamo Faccio un'altra missione Sì Che roba è tutta bene No Vabbè anche fare queste qua Ehm Ok Vabbè anche C'è Tappolano non so ma se entro lì dentro tu sei pazzo se entro là dentro mi posso spacciare ma allora è totalmente scemo è vero come soltiva che male ha sentito io male per lui una ragazza di bella carrozza lui giustamente trasporta vi trasportate qualcosa ma non questo tizio mi dare non solo per colpito per colpito ora è un po' ops ho preso qualcuno e ma te l'anime ne capite un paio ragazzi non ho valutato vabbè tanto ah quella attività l'altro l'ho provata adesso voglio andare a provare questa qua degli esplosivi e quella delle barche anche poi penso che adesso sono quelle altre sono tutte uguali potremmo se non ce n'è una nuova ah c'è quella del treno la rapina rapina al treno oh quella lì la devo fare allora questa quella delle carrozze l'ho fatta quella della scorta l'ho fatta ma faccio questo che c'è il simbolo del candelotto della dinamite faccio quella delle barche e poi faccio quella della rapina al treno che è l'inghiella in fondo sta ciccia non ce n'è uno più vicino del treno no quello che è mio fate quello no mi sembra andato forza lì beh almeno faccio vedere tutte le attività che ci sono nel caso di più o non ci abbia giocato o un corso orto o cos'è anche per non andare in football o un corso orto o non ci abbia giocato che ci abbia giocato in ok devo il tirapugni subito va giù cicciolone a parte che deve caricare la pistola carica la pistola riempiamo tutto poter tirare ma non voglio buttarmi giù lì c'è qualcosa da fare un attimo adesso vado vai allora vado possibile allora sabotiamo oh che cicciolone il segreto attenzione perché il segreto va faccio anche i vantaggi e i vantaggi servono allora usa le casse dinamite che sta portando il contrabbando aspetta un attimo prima uccido il cavo mister cavo e poi uccido ma si è andata un pochettino va molto male molto male molto male vabbè trasporta molto audace che che non che 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 Ok ok una qua e le incendiamo fatelo esplodere questo via 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 bon ok altra resumma questo è Funga, 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 funga! Boom! Olè! Questa è anche certo a... Oh, che ti muoce Ok, 1650 Andiamo a provare l'altra E' questa. 666. La miseria. Dai, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Schiava, però, te c'è la miseria. Guarda, più saldo. E poi scopri alcune voce, sono in italiano, altre in inglese. La cassa cosa succede? Ovviamente la scorcia. Eeeh, via. Vabbè, la ferma, non avevo più la scena. Guardate che qua c'era. Allora, almeno posso dirvalo per me. Allora, almeno posso dirvalo per me. Allora, la cassa. Allora, siamo pronti. Allora, la scezione. Allora. Allora. Eeeh, c'è anche la sua cosa Viva l'hoce Io non mi piace a focare un po' No, 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 no. Let's go! Attacca le barche del Brun rubando il manifesto di carico E segnando il carico per un relax Ok sono viciositosi Oh che cazzo! Segna il carico, pure i secondi cioè E poi fai fuoco Ti sto proprio staccando Non neanche tu E poi 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 Ma si muove Per quello Anche questa è risolta Ben fatto capo E poi E poi E poi E poi E poi Qua fino a mo Quindi il treno si sposta Ma dov'è? Eccola qua Ma E' una pina Al treno E' un attimo E' disposto si Neanche abbastanza veloce E' un attimo 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 Cazzaforte sul treno Quasi pieno Sul treno è 75% E' un attimo E' un attimo Isere Un attimo Bgi E' un attimo A meno e' un attimo E' un attimo A meno Questo lo fa E' un attimo Impressa ...eccolo qua... ...eccolo qua... ...eccolo qua... ...eccolo qua... ...sali sul treno e nel metto... ...550... ...ah... ...ce la scuola... ...ah... ...ah ok, più avanti c'è una protezione... ...di qualcuno quello che ne è... ...spero, poi non lo so... ...andiamo... ...e non c'è uno... ...e ora? ...fuggi dal treno... ...e non... ...fuggi dal treno... ...e non è piaciuta questa... ...e' la prima che buttò due... ...e' la prima che buttò due... ...e non è piaciuta... ...na niente... ...no... ...aspetta qualcosa di più... ...o' aspettavo qualcosa di più... ...e... Grazie.